In passato ho usato molti altri nomi, tanti che neppure me li ricordo tutti. Durante il periodo della mia relazione con Kichizo, fin dal primo giorno in cui sono andata a lavorare nel suo negozio, mi facevo chiamare Kai-Oh. Dopo la morte di Kichizo, sono diventata finalmente Abe Sada, che è il mio vero nome. Perdonami, perdonami. Perdonami, perdonami.